buongiorno amici di panorama italy rieccoci in diretta amici questa mattina siamo tornati nella bellissima mondello beach ragazzi in diretta per voi e tutti gli amici a casa facciamo un saluto stamattina siamo qui con parri nella linea ragazzi non vediamo l'ora di tuffarci vero parri buongiorno dametello non vediamo l'ora di tuffarci ragazzi eccoci qua salutiamo a letizia buongiorno buongiorno a tutti aspettiamo un po di collegamenti ragazzi ci tuffiamo sei contento parri di essere a mondello it's amazing amazing ragazzi amazing water ragazzi ora possiamo le cose ci facciamo sto bagno ragazzi mare fantastico saldiamo rosalba terminelli ciao rosalba buongiorno mare da favola ragazzi spiaggia ovviamente stracolma guardiamo anche orietta ciao orietta buongiorno vi raccomando amici di condividere di lasciare un like al video salutiamo anche a tutti gli altri che si stanno collegando e saldiamo anche aragona fabian gonzalez buongiorno buongiorno a tutti amici ciao benedetto ragazzi facciamoci sto bagno l'acqua devo dire ragazzi è moderatamente buona buona non voglio dire che è fredda è buona ragazzi saldiamo anche rosimatino ciao rosi saldiamo angela carlino buongiorno mondello beach e insomma ragazzi tra le mete più gettonata della nostra intera sicilia vi invitiamo questo è stato a venirci a trovare salutiamo anche orietta però non ce l'avate lo so ragazzi siamo tutti oggi alla fine a mondello saldiamo anche a concetta da new york ciao conci ciao pietro spardino com'è questa acqua come ti sembra non male ragazzi non male ciao orietta andiamo un po da quella parte che un po più bassa dai così facciamo una bella inquadratura tutta la spiaggia saldiamo anche a pietro busalacchia patrizia scalabrino ciao patrizia ti danno il bentornato pari grazie a tutti ragazzi saldiamo anche a rina buongiorno è il nostro mario zaccaria ciao mariuzzo saldiamo anche a mimma kaito e stefania marina di ciò stati aspettiamo da parino che ci da aggiungere ragazzi saldiamo anche a stefania gerlando buongiorno ragazzi che mareccia wow una bella immersione ragazzi c'è troppo caldo per 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 stare in giro a passeggiare saldiamo in girolamo e svetlana ciao svetlana buongiorno ma non vediamo col telefono ragazzi stamattina saldiamo a giannette che ci invia 50 stelle grazie giannette un abbraccio grazie saldiamo anche davide raya saluti aspettiamo un rapparino che ci raggiunge ragazzi saldiamo anche anna penna e paolo milana ciao paolo buongiorno ragazzi più di così non posso andare giusi più di così ragazzi non posso andare veramente acqua meravigliosa stamattina ma certo che parino sanno da sì però ragazzi adesso parino però è un secondo arriva adesso ci raggiunge saldiamo anche a mimmo tinaia ciao mimma anna buongiorno mimmo scinni mimmo grazie amici tutti gli amici che stanno condividendo vi raccomando di lasciare anche un like ringraziamo ancora giannette per le stelle e salutiamo anche i cirli later intanto arriva parrino ragazzi ciao giannette thank you for the stars grazie saldiamo anche a giorgio stassi ciao giorgio wow ragazzi paradiso marina come dice la mia amica sandra salutiamo anche angela ed elisa buongiorno salutiamo anche mirko no ragazzi l'acqua non è fredda avete visto sono entrati in due secondi no no non è fredda assolutamente da quella parte il bellissimo charleston facciamo un mega zoom guardate che spettacolo da quella parte tutta la bellissima borgata di mondello state anche vicky buongiorno guardate bella mondello vista dall'acqua ragazzi e da quella parte ragazzi la zona molo che è una delle nostre zone preferite come bene avete potuto capire in quasi tutte le dirette partiamo quasi sempre da qui perché comunque no vabbè giusi ovviamente sa nuotare parrino no quindi ad agosto ci vediamo ad agosto lì d'esercito ciao gabri siamo qui proprio guarda qui c'è lì d'esercito salutiamo anche san cinei salutiamo giuseppe mamone ciao giuseppe adesso vi facciamo ancora un altro saluto con parrino comunque ragazzi l'acqua è fantastica si sta veramente benissimo arriva parrino ragazzi sta arrivando sta arrivando vamos salutiamo anche gennaio maria imperato e mirko catanzaro ciao mirko acqua fantastica ragazzi acqua buona parri in acqua fredda com'è no no ragazzi acqua buona acqua buona amazing facciamo un saluto parri vieni ciao al bagno ragazzi facciamo intanto un altro saluto con parrino ciao tutti siamo carichissimi stamattina ragazzi qua vero cosa in grande ragazzi salutiamo anche a domenica e a fa crew eh ragazzi acqua fantastica ti saluta Mimmo ah ciao Mimmo che fai noi mila a Romagna Mimmo dove sei Mimmo ciao Ninuzzo saluti salutiamo a Ninuzzo salutiamo a Concetta Francesco buongiorno Stefania Meschis Elisa Berna Albanesi per tutti gli amici collegati intanto qua ci stanno seguendo direttamente dal mare ragazzi come ti chiami che ti faccio il saluto facciamo un saluto qua con Alessandro ragazzi saluti da Mondello un bacio a tutti viva Panorama viva Panorama grande Ale grazie alla grande ragazzi era difficilissimo salutiamo anche Elisa Stefi e Katia saluti ragazzi anche da quella parte comunque c'è qualcuno che ci stava seguendo prima ragazzi perché prima di iniziare la diretta abbiamo incontrato un po' di amici della Paggio insomma per noi davvero un piacere e insomma da quella parte tutte le bellissime imbarcazioni come potete vedere un sacco di barche che si soffermano qui nella bellissima spiaggia nel golfo di Mondello salutiamo anche Giuseppe Alessi Giuseppe Corrao e Maria Plataroti ciao Maria e insomma hai visto Padri? ci conoscono tutti ragazzi vi faccio un altro saluto a comparrino saluti ragazzi scinniti vi aspettiamo in tanti e insomma ragazzi acqua meravigliosa no ragazzi a Mondello si tocca quasi sempre quindi anche chi non sa nuotare ragazzi è una spiaggia praticamente accessibile a tutti a parte che noi sappiamo nuotare vero Padri? sì però comunque diciamo mi sto levando a allenare sapiamo anche Mimmo, Cristina, Mario, Ignazio e niente raga che ve lo dico a fare non so più che dirvi solamente vi aspettiamo che dici Padri diciamolo in spagnolo diciamolo in spagnolo in spagnolo ragazzi aspettate buenos dias scinniti scinniti ragazzi ciao Francesco Scalici grazie insomma ragazzi mare da favola saluti anche Maria Palonessa ciao Mari e Francesco Francesca lo bianco com'è? it's amazing? it's amazing wow ragazzi è veramente meraviglioso questo acqua attente polpi dice Mario no ragazzi si sta veramente benissimo non so se vedete il colore dell'acqua ma è qualcosa di eccezionale saluti mai i ulti 240 in diretto parli ho visto tutti qui per te 240 bene bene saluti anche a Biagio Francesca quanto mi manca ragazzi vi raccomando condividetelo questo video c'è anche abbastanza gente come potete vedere anche da quella parte fai un tuffo anche per me adesso lo faccio adesso lo faccio saluti anche a Michele De Giglio buongiorno la spiaggia è stracolma ragazzi stamattina nonostante ancora diciamo non siamo a domenica neanche sabato insomma è un buon venerdì per la spiaggia insomma c'è tantissima gente salutiamo anche Maurizio Romano e Maria Platarotti ragazzi ovviamente mi scuso se non sto salutando a qualcuno ma ovviamente qualche commento ogni tanto ci sfuggia diciamo che questo è l'unico modo di fare diretta in questo momento perché c'è un caldo pazzesco saluti anche Matteo Padomano e Ross Tirano saluti da Cusano ciao e insomma Parrino che ne pensi che ne pensi ragazzi che ne pensate avete visto che tanto è una meraviglia puoi fare una diretta e nel stesso momento puoi luttare è una meraviglia grazie grazie ciao Giussi Conte ciao Salvatore D'Alicata ciao Paolo vi aspettiamo in tanti ragazzi quest'estate vi raccomando mamma mia ragazzi ma che bello Caraibi raga spettacolo ragazzi spettacolare guarda che mare bello bello veramente stupendo ragazzi stamattina poi acqua fantastica poco fa siamo stati anche in zona Molo anche lì fantastica l'acqua appoggiato per salutare anche a Valentina l'abbiamo incontrata prima un'altra amica della pagina è un ragazzo adesso c'è Parrino per il cellulare puoi fare grande bagno in diretta ah sì 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 diciamo che Parrino è un pochettino anche lui ha ormai le braccia tutte bagnate quindi non mi può aiutare più di tanto stamattina però ovviamente cercheremo di fare meglio nelle prossime saldiamo anche Antonio Provvidenza e Giusy Conte ciao Giusy Giusy comunque la nostra Giusy poi andiamo a trovare a Terrasini fa un saluto Parrino fa un saluto ciao Scinni Giusy Scinni Scinni Giusy ti aspettiamo no scendiamo no a Terrasini ragazzi effettivamente saldiamo anche Mimma Caito e Pino Enzo grazie una meraviglia veramente saldiamo anche Aurora Agnello grazie Aurora e Vanessa Selimovic amici vi raccomando di condividere questo video così facciamo vedere un po' del nostro mare in giro per il mondo vedo che ci sono tantissimi amici all'estero soprattutto voi ci potete dare una grossa mano con le condivisioni quindi vi raccomando dateci una mano con la condivisione che portiamo questo mare ovunque salutiamo anche Vincenzo Duscio che ci saluta da Milano la mia Bia da Palermo vamo ciao Sonia Carreira saluto e insomma ragazzi ovviamente tutti gli amici che ci vengono a trovare li portiamo a Mondello nei prossimi giorni andremo anche a Morreale Terrasini San Vitolo Capo c'è Falù insomma gireremo un bel po' saluto anche Maurizio Zarcone e Catia Lovetre quando venga a Mondello spero di incontrarti va bene ragazzi ci aspettiamo qui noi chi si muove parli da qui nessuno ragazzi non ci possiamo muovere da qui dice Mario ti stai divertendo ragazzi abbastanza guardate è bello divertito ragazzi tutto cagnato aspettate aspettate salutiamo anche Giuseppe Pava e insomma ragazzi eh sì ragazzi Alex è vero la parte più bella è qua dove c'è l'idea esercito infatti siamo proprio da questa parte ragazzi adesso vi faccio vedere dove siamo spostiamo un po' vediamo anche a Stefano di Carlo ciao Stefano ci facciamo una notata col cellulare ragazzi mi sto allenando per fare questa cosa l'idea esercito è qua ragazzi vedete la zona preferita nostra solitamente è questa qui la zona del molo dove l'acqua appunto vedete è più è più calma e quindi diciamo c'è meno sabbia meno alghe invece da quella parte comunque anche anche lì è meraviglioso sicuramente però è un pochettino più mosso eh Giuseppe secondo me il telefono si vuole immergere pure effettivamente salutiamo anche a Daniela bevi l'acqua ciao Daniela e Denise ragazzi l'acqua è fantastica non è fredda vero Parli no no è fantastica ragazzi è meravigliosa veramente non ho motivo di dire il contrario salutiamo anche Romina salutiamo Stefano Orlando e Rosi Massimo Saia ragazzi condividete forza cliccate sul tasto condividi che vedete lì di lato quanto siamo? siamo 250 infatti più scelta di così dove devo andare giusto giusto esattamente comunque ragazzi vi stavo dicendo se vi arriva la notifica di inviare le 100 stelle gratuite vi raccomando di cliccare su inviastelle per darci un supporto se ci potete dare una mano sono ben gradito sono anche Burgio Francesco Giuseppe attenta al telefono se si vuole fare pure il bagno eh ragazzi effettivamente si vuole tuffare anche lui si vuole tuffare anche lui eh niente ragazzi vi aspettiamo qui quest'estate ok salutiamo in Chiatatiana da Malta facciamo un saluto agli amici di Malta un saluto agli amici di Malta noi qua siamo immersi nel blu dipinto di blu ragazzi saluti anche a Giusi Lagru a Burgio Francesco e a Marco e Maria eh lo so ragazzi purtroppo vi aspettiamo eh ragazzi guardate quanta gente c'è non so di amici ora vedo che ci sta scrivendo anche Ambra da Londra guarda quanta gente c'è in spiagge ragazzi è tutta piena si può dire salutiamo anche a Rosario guardate quanta gente ragazzi Mondello Beach ciao ciao Alexandro saluti saluto a tutti voi amici insomma ragazzi uno spettacolo c'è un sacco di gente stamattina ovviamente ragazzi vi consiglio di arrivare presto al mattino per prendere posto in spiaggia perché ovviamente come ben potete vedere se non avete la la disponibilità insomma di prendere eh qui la zona privata appunto delle dei lì di balneari insomma c'è questo questo tratto di di spiaggia libera dove potete eh diciamo accomodarvi oppure nell'altra parte quella lì in fondo praticamente in zona in zona paese Mondello paese saluti anche Marisa Pullara Giuseppe Calamosca Federica Romagnoli e Luca Catanzaro buongiorno amici e quindi niente ragazzi arrivate presto al mattino noi non arriviamo presto noi arriviamo sempre molto comodi noi sempre a mezzogiorno ragazzi siamo un po' spagnoli in questo vero papi siamo dopo una siesta facciamo una siesta facciamo anche una siesta ragazzi saluti tutti gli amici della Spagna ovviamente collegati saluti anche Federica Romagnoli e niente ragazzi che facciamo parliamo chiudiamo con la diretta ragazzi che dite o volete stare ancora saluti anche Carola c'è Carola pure facciamo solo a Carola Carola noi siamo qui spettacolo stamattina ieri anche Carola c'è stata qui quindi già sa di che ce la stiamo parlando credo che era messa più o meno anche nello stesso punto saluti anche Frank Cirami e Ambrosetti Manolo martedì ci sarò anche io con i miei cani e mia moglie ciao Manolo ti aspettiamo saluti anche Luca Catanzaro ciao Luca e Margherita Di Salvo amici vi raccomando condividetele lasciate un like al video in basso vedete i vari tasti tasti a forma di cuore insomma ci potete cliccare e ci date la mano te ci saluta dalla Daura ciao a te siamo vicinissimi allora stamattina ah che bello eh eh Mario sì comunque Parino si sta scialando ho detto in siciliano sarei anche Vincenzo Listo ciao Vincenzo e niente ragazzi non aggiungo altro per questa diretta credo che insomma le immagini parlaremo da sole mare da paura spiaggia fantastica prezzi top qui in Sicilia insomma vi aspettiamo vi faccio uno zoom sul Charleston anche lì spettacolare ciao Domenico Ginex saluti da Palermo ragazzi mare di Mondello stamattina direttamente dal mare la diretta la facciamo eh niente pari dai facciamo un saluto che dici facciamo un saluto agli amici da casa ragazzi un saluto a tutti voi a casa vi aspettiamo a Mondello in Sicilia mi raccomando ragazzi veniteci a trovare un bacio alla prossima alla prossima ciao raga grazie a tutti gli amici che stanno scrivendo ovviamente tutti gli amici che hanno condiviso e lasciato un like ci vediamo alla prossima diretta grazie grazie e ci andrò e ci andrò giù nei prossimi giorni saluti anche Bruno di Diocoli e Scalisi ma si può parcheggiare sì ci sono i postelli noi abbiamo posteggiato a parte di Maria sì sì ragazzi basta girare un po' vediamo anche Marisa ed Elisabetta prestigiano ragazzi vediamo se dopo ve ne facciamo un altro dai intanto ci facciamo un bel bagno completo così ci vediamo dopo ragazzi ciao Maria Teresa ciao Romina un saluto raga Sant'Elia non siamo troppo distanti ma anche troppo vicini in questo momento salutiamo anche gli amici di Sant'Elia salutiamo Mimma Caito Mario Giussi le nostre amiche di Malta e tutti gli amici della pagina va bene ci vediamo dopo ragazzi grazie e salutiamo Gianetti soprattutto ci inviato delle stelle grazie un saluto amici ci vediamo alla prossima diretta un bacio da Mondello